Cos'è PASO 2013? PASO 2013 è il nuovo tema realizzato con WordPress dalla comunità di pratica Porta Aperte sul Web. Il tema è rivolto alla costruzione di siti scolastici a norma e accessibili. Adesso qua lo vedete nella sua versione Tinta Unita Blu ci sono altre 5 versioni grafiche che sono sia a Tinta Unita che con i menu che sono sfumati. Quali sono le caratteristiche fondamentali di questo tema? Il primo, abbiamo detto, è un tema a norma. Allora è un tema che segue quelle che sono le richieste di accessibilità è stato realizzato quindi in XHTML strict valido non ci sono errori di codici, perlomeno nel tema che noi consegniamo. Poi, attenzione, deve essere rivolta dall'aspetto del redazionale di chi inserisce i contenuti in modo che si mantengano queste prerogative. Oltre a essere accessibile è un tema che è a norma cioè contiene quelli che sono i contenuti obbligatori richiesti dal codice dell'amministrazione digitale. Ha poi un occhio verso quelle che sono anche le operazioni di trasparenza richieste dal ministero con la sua ultima iniziativa Scuole in chiaro di dicembre 2011 che poi è stata realizzata ai fini di aiutare i genitori nel confronto tra scuole e nella prescrizione e contiene tutta un'altra serie di elementi interessanti compresi quelli che sono sia un'apertura di spazi di didattica che è agli spazi di ambienti social che favoriscono la partecipazione del cittadino e quindi gli studenti, dei genitori e quant'altro. Altra caratteristica del nostro tema è che è un tema assolutamente gratuito che è liberamente utilizzabile, distribuibile e diffondibile proprio nello spirito dei nostri materiali che sono messi sempre a disposizione da parte di appassionati appartenenti a più regioni che condividono però la stessa aspirazione a concepire un web aperto e un web dove lo scambio e la cooperazione siano poi gli elementi fondamentali dell'interazione e delle relazioni tra le persone. Il nostro tema utilizza una strutturazione di contenuti che in parte sono legati a contenuti classici di struttura ad esempio tutta la parte sulla trasparenza, valutazione e merito che viene gestita in una sezione apposita è diciamo abbastanza tradizionale perché segue un po' il concetto pagine sotto pagine e poi l'altro elemento invece più fortemente comunicativo è legato all'organizzazione dei contenuti che invece sono figli di comunicazioni. In questo caso un'attenzione che viene dedicata nel sito è la gestione delle circolari e delle news le circolari e news sono diamo ad esempio nell'ultima news quella di lancio del nostro tema sono gestite in modo direi omogeneo all'interno del sito dopo un titolo noi abbiamo la pubblicazione con data e ora abbiamo dove è contenuta la risorsa cioè come è stata etichettata la risorsa rispondendo alla domanda dove è contenuto l'oggetto comunicativo cioè dove è contenuta la news che è contenuta in docenti, famiglie e news cioè in quali sezioni del sito viene in automatica a essere inserita la comunicazione e poi invece quali sono i tag cioè i descrittori della comunicazione stessa cioè di che cosa parla aprendo così le porte a un'ulteriore diciamo un'ulteriore modalità di classificazione dell'informazione secondo i suoi descrittori poi tutti questi articoli sono corredati da un piccolo abstract che poi va a essere letto nei vari archivi in modo da dare una veloce anteprima dell'articolo stesso e poi noi abbiamo l'articolo completo che si sviluppa con tutto il suo testo quindi il primo elemento è un po' la gestione delle comunicazioni il secondo elemento invece sono ancora quelli legati più agli aspetti di obblighi altro elemento importante è la presenza dell'albo l'albo pubblicità legale un altro degli obblighi che sono state richiesti dell'amministrazione e noi rispondiamo a questo obbligo con la realizzazione di un plugin fatto appositamente per noi da Ignazio Scimone di Varese che ci consente di gestire gli atti formali della pubblica amministrazione secondo i requisiti del Vademecum redatto e prodotto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ecco questo è a grandissime linee la nostra proposta e pronti per confrontarci e condividere le soluzioni che pian piano potremo adottare insieme